Nordic Walking, una camminata con i bastoncini, nasce negli anni 30. Infatti i sciatori di fondo, quando era estate, non essendoci la neve, all'epoca purtroppo non essendoci ancora le apparecchiature da palestra che ci sono adesso, avevano due metodi per allenarsi, o correvano con i bastoncini o lavoravano come boscaioli. Il concetto di Nordic Walking come fitness nasce nel 1997 a opera di uno studente finlandese di fisioterapia, Marco Cantaneva. Infatti lui fa la sua tese universitaria proprio su questa disciplina. Questo si considera proprio la pietra miliare per la nascita del Nordic Walking. C'è questa differenza, questa camminata con i bastoncini, che a differenza del bastoncino da trekking, in cui il bastoncino ha una funzione puramente di appoggio, in questo caso il bastoncino ha una funzione di spinta. Praticamente questa camminata, fatta nel modo giusto, ha in grado di attivare circa il 90% della muscolatura del corpo, con notevoli benefici, sia a livello muscolare che cardiovascolare. Adesso ci cerca che siano praticanti in Europa più o meno 10 milioni in costante crescita. Comunque la diffusione di questa disciplina in Italia, metto soprattutto della scuola italiana Nordic Walking, fondata da Fabio Moretti e Pino della Sega, già atleti in altre discipline. Comunque per chi vuole sentire questa disciplina, sia come praticante che come istruttore, ci sono numerosi istruttori in tutta Italia. Qui a Ischia abbiamo le istruttrici Assunta Calisse, che possiamo organizzare i corsi. Chi volesse contattarla, ho fondato un gruppo su Facebook Nordic Walking in Ischia. La prima o prima lezione è stata un po' nel dubbio, diciamo, bastoncini qui a Ischia, come è possibile, sembrerebbe quasi uno sport di montagna, ma mi sono dovuto ricredire, infatti questo sport si può praticare dappertutto, sull'asfalto, sullo sterrato, anche sulla sabbia. Comunque il mio sogno, sì, sarebbe fare tutto di un gruppo di amici, di sportivi che si possano aggregare, favorire la diffusione di questa disciplina. Poi se nel futuro dovesse nascere qualcosa di meglio, venga. Lo si pratica solo ed esclusivamente per fitness, quindi per allenamento, oppure ci sono anche delle competizioni, delle gare? Sì, lo si può praticare sia per fitness, e ci si, comunque da poco è arrivato anche il Nordic Walking a livello agonistico. Chiaramente le gare si svolgono principalmente nel centro-nord Italia.